Caro Babbo Natale, ti ho visto domenica a Varese mentre regalavi le capsule alla mia mamma. Dopo che ci siamo salutati, lei ha continuato a dire per tutto il tempo al mio papà che quelle capsule profumavano proprio come il caffè della nonna. Ho deciso di scriverti una nuova letteina perché vorrei regalare per Natale tante e tante capsule alla mia mamma. Vengo a trovarti domenica 16 dicembre alle 15.30 nel negozio del caffè di Bocoggiate. Così mentre bevo la cioccolata e la mamma distratta posso usarti una nuova letterina? Spero che assieme a te ci saranno anche le rene e i tuoi aiutanti. Ci vediamo domenica. Un abbraccio. Noemi 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 Sovi